good morning sì qui sono le 10 e mezza come dico in questi casi non proprio una mattina prestissimo è una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente david lynch it's march 30 2022 and it's a wednesday in naples cloudy morning and 66 farinette around 17 celsius this means that è però that day really 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 soft e che sign this day is in this period è comunque un clima primaverile per quanto concerne il video sui pensieri ovviamente il caso interessa lo faccio sempre separato da questo quindi occhio anyway i see and you all just see from the window i think that this afternoon the temperature potrebbe scendere di qualche grado perché è nuvoloso ma potremmo entrerci allo stesso livello vedremo ovviamente su questo non siamo dei maghi e aggiornerò but really important thing with this atmosphere in negative point is that absolutely today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine è totalmente nuvoloso anzi mi correggo i serreni morning perché sta piovigginando quindi con questa questa atmosfera è quasi impossibile che uscire il sole e il cielo dopo a questo punto speriamo in un giorno migliore domani ma aggiungo anche che ho letto ieri ho letto appunto che in questi quattro cinque giorni successivi il tempo e l'atmosfera sarà sempre così quindi possiamo fare in questi casi però comunque non ci possiamo lamentare perché qualche giorno fa abbiamo avuto invece per quattro cinque giorni consecutivi lo spiutivo di blue skies and golden sunshine vabbè ma comunque speriamo al meglio per domani sì per cui said this so from the mythical window with the colored curtain certo non sublime ovviamente ma nemmeno bruttissimo grazie sempre all'inquadratura che crea questa luce e questa luce che giocia agli stessi colori della tenda and it's green roller shooter behind me on the top not visible and in fact earned the shot and finally from a mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people follow podcciando dei riporsi un saluto davvero a tutti have also a great breakfast everyone e mi inviete a vedere il video che ho fatto ieri il finale del video che ho fatto ieri mi parli dal terzo minuto in poi l'ultimo minuto terzo minuto e ventre una cosa del genere fino alla fine perché li ho spiegato perché faccio anche questo saluto questo nuovo saluto ad ogni modo il mio stomaco brontola non so il vostro sentite come brontola sì ci vediamo al video pensiero nel caso lo faccio o domani